Green Economy, economia circolare e sostenibilità inseriti nella transizione ecologica e nel PNRR sono alcuni degli importanti temi affrontati a Brindisi nella seconda tappa nazionale del Roadshow La Parola ai Territori, promossa dal Comitato Nazionale di Coordinamento Territoriale di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici. Un appuntamento rivolto a tutta l'area sud, che ha visto un'importante attenzione e partecipazione da parte del territorio. E' importante soprattutto il confronto con i territori, perché dal confronto con i territori facendo emergere sia le criticità che si riscontrano sul territorio nazionale sia le buone pratiche, perché non bisogna pensare solo in negativo, sui territori ci sono anche tante buone pratiche specialmente in questo periodo in cui si sente tanto parlare di transizione digitale, di green economy quindi è molto importante stare attenti e suggerire le strade migliori da intraprendere. La sezione tercera innovativa è diventata una delle sezioni più popolate, con più associati, quindi una sezione anche forte in Confindustria. La Confindustria Brindisi ha 13 sezioni e questa è una di quelle che insieme alla metalmeccanica, insieme alla chimica, insieme al settore energie è una di quelle sezioni che raccolgono ormai molte imprese. Parleremo di sicurezza e di ambiente, parleremo di green economy, economia circolare, sostenibilità, insomma tutta una serie di argomenti che sono di attualità.